we che cactus fai da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone daie bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo velocissimo video io sono xyuder e ragazzi con la patch 8.30 insieme a tutte le grandi novità in arrivo ci sono anche le nuove sfide dei bucanieri ragazzi quelle che ci regaleranno un emote uno spray uno standardo e un'altra cosa che momentaneamente non ricordo andiamo però a vedere la sfida di oggi vi ricordo sei giorni per completare tutte le sfide e quindi ottenere i regali la sfida di oggi ragazzi ci chiede di visitare 10 accampamenti dei pirati in partite diverse quindi come vedete io ve ne sto facendo vedere uno è quello vicino al lago ghiacciato eccolo qua ragazzi ma per essere un po più precisi volevo farvi vedere tutte le location degli accampamenti ed eccola qua ragazzi la mappa precisa con segnati gli accampamenti quello che stiamo vedendo facciamo una cosa vi metto ragazzi vediamo se riesco a mettervi il mio cursore così lo vedete anche voi ecco qua dovreste riuscire a vederlo non lo vedete perfetto va bene il primo ragazzi è qua vicino al lago ghiacciato quello che abbiamo visto insieme uno è proprio là in alto quello più indietro rispetto a parco pacifico la casetta imboscata nel bosco qua ce n'è un altro ragazzi che è quello sulla montagna vicino a lande letali andando più avanti proprio vicino a palmetto paradisiaco dove c'è il ponte che collega i due biomi deserto e il bioma verde c'è l'accampamento ancora più in su ragazzi vicino a sponde del saccheggio da di fianco diciamo alla sinistra di sprofondo stantio ce n'è un altro uno è ovviamente là in alto dove c'è laguna languida avete capito benissimo qual è e l'ultimo ragazzi è quello appena alla base del vulcano mi raccomando ragazzi uno ogni partita quindi in dieci partite riuscirete sicuramente a visitarli tutti da ragazzi io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su codice creator xiodarone noi ci vediamo alle 13 in live ciao 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 ciao